Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono DarkHouse92 e oggi sono qui per mostrarvi una cosa davvero assurda Ragazzi prima di tutto volevo dirvi che non c'è la intro e nell'outro in questo video Perché lo voglio pubblicare subito adesso per farvi capire un po' il tutto Allora sono su Twitter di Fortnite ovviamente E praticamente è uscita una nuova modalità ovviamente su Fortnite Questa modalità si chiama Solo Showdown Limited Time Mod Cosa significa? Andiamo a vedere cosa succede con questa modalità Modalità a tempo duello in solitaria Qua ci dice ciao a tutti oggi vi presentiamo la nostra nuova modalità a tempo duello in solitaria Volete dare prova del vostro valore in battaglia? Cimatevi, cimentatevi, madonna il mio italiano proprio Con la modalità duello in solitaria Per un'esperienza di battaglia reale come non ne avete mai vissuto prima A differenza delle altre match Duello in solitaria non cambierà nulla nel gameplay base della modalità di giocatore singolo Che già conoscete ovviamente Verrete invece spronati a sfidare altri concorrenti Per scoprire che tra voi sarà l'ultimo a restare in piedi Il team di Fortnite aggiornerà di frequente questo blog Con le classifiche della modalità duello in solitaria I migliori giocatori riceveranno una ricompensa al termine di questa competizione ragazzi Ed ecco qui i premi Primo posto 50.000 V-Buck Quindi stiamo parlando di 500 euro di V-Buck Dal secondo posto al quarto posto stiamo parlando di 250 euro di V-Buck Dal quinto posto al cinquantesimo posto stiamo parlando di 100 Se non sbaglio 135 euro di V-Buck E dal cinquantunesimo posto al centesimo posto stiamo parlando di 75 euro di V-Buck Poi vabbè ci dice dai un'occhiata qui per il regolamento completo Poi basta cliccate qui e vi porta direttamente al regolamento Dove c'è la descrizione in sintesi eccetera eccetera Come partecipare, giocare almeno 50 partite e mette duelle in solitaria Periodo del concorso, il concorso è aperto E la met duello in solitaria sarà disponibile dal 17 maggio 2018 alle ore 16 ora italiana Fino al 21 maggio 2018 alle ore 16 ora italiana Quindi il 21 maggio finito No aspetta siamo già al 21 maggio Quindi non è fino al 21 maggio Dal 17 sarà disponibile al 21 maggio Però io ho letto ragazzi qui che ci dice appunto La maturità duelle in solitaria termina il 5-21 Quindi il 5-21 Ah giusto allora sì 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 praticamente 18-19-20-21 tra 4 giorni si finisce questa modalità Quindi mi raccomando ragazzi Andate, continuate a giocare Perché veramente ragazzi questa è la modalità Ve la faccio vedere instant Duello in solitaria Rimani l'ultima persona in vita in questa battaglia per i giocatori più abili Mi raccomando ragazzi Potresti essere proprio tu E dico tu che mi stai guardando A vincere questi 50.000 V-Buck Oppure piazzandoti nella classifica degli top 100 E ricevere comunque 7500 V-Buck Che sono una cosa enorme Cioè 75 euro gratis Non è che Un'altra cosa Ho saputo ragazzi che la minima età Quindi per ricevere i V-Buck e la ricompensa è di 16 anni Io non sono sicuro di questa cosa Però mi è stato detto così Mi raccomando ragazzoli Condividete questo video Fatelo vedere ai vostri amici Perché questo contest che sta facendo la Epic Games Ragazzi È qualcosa di eccezionale È qualcosa di assurdo Un ringraziamento Ovviamente va alla Epic Games Che mi ha dato l'opportunità Comunque di Cioè nel senso di Di dirvi questa cosa Che poi alla fine non è che mi ha dato l'opportunità Allora l'ho fatto io Però quindi sti cazzi È che fa un po' figo Dire da Diamolo Cioè Vabbè Avete capito Arriviamo a 100 like Come al solito Vi ringrazio ancora per la visione Un bacione dal vostro Darkhouse92 E noi ci vediamo Ad un prossimo video Oppure live Chissà mai Woohoo Ciao Ciao Ciao!